In 60 secondi ci proviamo. Atleta preferita, artiste area. Spuntino preallenamento, burro da racchidi. Descrivi il rugby in una parola, divertimento. Sveglia alle 4, ritorna alle 4, dipende. Si può anche tornare alle 4 in qualche eccezione. Cantante preferito, Vasco Rossi. Città preferita, Roma. Avversario più forte incontrato, Galles. Dolce preferito, gelato. Pizza preferita, vegetariana più prosciutto cotto. Gusto gelato, yogurt greco. Sport preferito per rugby, ginnastica artistica. Soprannome, non si può dire. Un tuo difetto, un mio difetto. Un tuo fregio, credo di essere solare. Social preferito, Instagram. Attore preferito, DiCaprio. Bibita preferita, acqua. Serie TV preferita, Piki Blinders. Compagna più forte, di squadra.